andiamo probabilmente si cureranno i pochi ah cavolo no 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 hai degli item per curarli nell'inventario no mi serviranno ecco potrò mi perdere mi è rimasto solo lui io ti sono messo un po' peggio eh ma tu ne hai un altro ne hai altri due io no capito io distrugerei prima quello in basso efficace ma è la tua possa migliore Questa è la tua mossa migliore? Eh, la mossa migliore purtroppo si carica al secondo attacco Io attacco pure quello sotto e io attacco quello sopra Questo è il mio attacco migliore Solo che lo posso tirare solo dopo che ho tirato un'altra abilità Andiamo di due piccati Livello 8 Ah, ho una nuova abilità E io non posso neanche riattaccare Devi attaccare solo tu Ah no, ok Vediamo la nuova abilità Eh, ciù Ma non lo fai danno Che schifo Oh, qua mi sembra che possiamo curarci, forse Oh, qua, qua Ah, come l'ho detto D'ora Time card 15 La medicina 80 Sti cazzi Ah, ci si cura qui, su questo E quest'altro è il box Per mettere giù i Pokémon? Si Si Ehi Non c'è Sì Oppure le botte questo Puntiamo al livello 6? Vai Direi due kick che muore No Due kick che muore abbiamo detto Eh lo so ma avevo da usare quella Non potevo usarla su quell'altro Potrei usarla dopo, risparmiavi mana Eh, vedi, ti potevi risparmiare questo colpo in faccia Adesso tiragli tu il calcio Io quell'altro lo ho distruttito Ancora? Un'altra tre botte Peggio per lui Addio Uh, livello 9 Vado a ricaricarmi Ma Pensa, conta che io nei giochi di Pokémon faccio sempre così Faccio una battaglia e mi ricarico Faccio una battaglia e mi ricarico Perché? Perché mi alleno come un stronzo Infatti in generale io voglio a lei che ho tipo livello 70-80 Oh, pezzo vuole Non ci sono funziona veramente ma che cazzo hai fatto volevo capire se funzionava mi sa di sì bene quindi bisogna che stare attenti al fuoco amico tanto lo so che adesso ti vendicherai no per niente è rimasto con uno di vita davide se vedrai questo video è stato più veloce il mio ad attaccare esatto è stato più veloce il tuo sennò ti avrei fracassato di botte direi che due kick basterà direi di certo ma no è che ora deve curarsi ovvio non subisco danno col vero ora in basso ora in basso ah ormai ma perchè quello che avvelena è più forte e non accede l'ultimo perchè lo voglio catturare quello che avvelena ma 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 che sverla ma no 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 mi vendicherò ecco ah ah però ho preso expo non beh ah 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 dai guarda il lato positivo livelli del tucano eh sì ma fa schifo il livello 5 me l'ha regalato quindi passo il turno? ok beh ha avvelenato anche lui qual'è per passare il turno? eh quello sotto l'orologio o le due precedenti? eh l'orologio tratto caffinomane beh non male non male devi andare a curarci? eh beh io sì e com'è no non è di qua ma no a questo punto non ho prenduto quell'altra mi manca ma perchè? ma io ho attaccato quello di sopra è attaccato ad aria a tutti quanti andiamo ho vestito il tizio sicuramente meglio di me su chi andiamo? ah non lo so a chi tiri? a destra, sotto a destra? ah e a destra adesso provo a catturaglielo allora no non può essere catturato ne ho sboccata una no gli faccio danno nezzo eh tira un kick sotto per due che cos'era quella papela? non avevo idea quest'anno non lo so sì nuova abilità ma allora tutto mezzo eh sei una pippa devo fare tutto io guarda però ma sei una femmina mi sei una femmina spero di poter andare ancora più su stare sicuramente per un picocchio ma no sì ovvio ma va fatto vediamo se riesco a prendere quello sopra senza sembra ammarsi sano no eri risos e risos 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 non cazzo Dov'era qua la cosa per curarli? È ancora a destra Sì, ma potevi aspettare che andassi a curarmi io, no? Ah, pensavo stessi già facendo Eh, sì, la metti qua con te adesso Ah Ecco Beh, te la... no, non te la cura Perché c'hai questo? Eh, perché l'altra è morta di veneno Ah Ma, ma... Ma di solito aspetta Quando... quando io curavo i miei aspettava... aspettava te Guardo! Ah Questi fanno male Ma Se avessi attaccato quello sopra sarebbero morti entrambi Ma io che ne so Cosa? Perché ho messo il tuo? Perché ho messo il tuo? Ops Eh, c'è qui solo tu a messo il tuo war Ops Eh, ho messo il tuo war Eh, ho messo il tuo war Cacchio solo veleni Ah Eh Sì, tanta esperienza per me Ah Vedi il karma? Adesso devo andare a ricurarmi Eh, sì, vedo la parte opposta della mappa Ah Ah, è qua sotto Basta passare qui Easy Ma cosa stai facendo tu? Ah C'è altra gente A curare Magari sono in due Noi possiamo fare due contro due Come l'ho detto Ah Vediamo se riesco a prendere uno Ne hai due Il livello 4 Magari Maledetto figlio di tua madre Ah E Ha 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 Da vi Sfidiamo qualcuno? Questi due qua a destra Come si fa? Eeeh Non così sicuro Ah fatto No aspetta No non è andato Vai proviamo Ma a me non si muove più Cosa è successo? E non va più Non so che sia successo Non risponde più ai comandi Bene Alta F4 Eh mi sa che mi tocca Vabbè Allora 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 Allora